Ci sono generi musicali, artisti, gruppi, testi, dischi proprio, che vengono al mondo poco grati della vita. Vengono al mondo per un istinto di sopravvivenza. Tutto quello che poi ne deriva, la conseguenza della messa al mondo di un'opera d'arte che deriva appunto da quell'esigenza che è al limite tra la vita e la morte. Quando si parla di emozioni è facile parlare di morte, perché come ho sempre detto non è la morte che mi spaventa ma la morte nella vita. Quando vengono al mondo queste opere d'arte appunto, che possono essere quadri, possono essere film, possono essere... io sto parlando di qualunque forma d'arte. Ecco, in questo caso parlo di un gruppo, i Suicide Boys, esattamente. Non ho a che fare con le Suicide Girls, ma i Suicide Boys sono un gruppo, un duo rap statunitense, formatosi nel 2014 a New Orleans. Sono due cugini. E secondo me è importante parlarne perché in qualche modo loro hanno anticipato tutta quella corrente di SoundCloud Rapper, che poi insomma ci ha portato nomi come Lil Pip, XXX e via dicendo, no? Loro secondo me sono stati proprio tra i primi... non dico i padri perché sarebbe una stupidaggine, però diciamo che erano in quel periodo lì, ma non se ne parla molto, perché loro erano ancora più tetri, fondamentalmente. C'è questo brano, che tradotto vuol dire Antartide, è un brano veramente, veramente tetro. Cioè loro sono l'horror della musica e sono comunque un gruppo che tecnicamente ridà molto al classico rap, no? Quindi un rap classico. A livello strumentale, a livello di attitudine e testi invece sono proprio... veramente... vabbè vi leggo un testo perché è inutile descrivere. Sono il signore della solitudine. Tratterrò il respiro. Ho appena parlato con la morte. Ha detto che spera il meglio. Gli ho detto che mi sto prendendo in giro il collo, poi mi sono svegliato soffocato dal buco nel petto. In qualche modo riesco a funzionare e sperare. Ogni giorno ho un nodo in gola. Sono quelle pillole inghiottite intere. Fumo un blante, poi fanculo queste zappe. Finisci aggrappato alla loro gola. Allontanati da me. Ti odio. Fedelmente. Questo mondo non è mai stato fatto per me. Per fortuna sono stato addestrato a vedere oltre le bugie. Stinco le ginocchia, poi percorro l'asse e mi congelo. Qui si parla di rifiuto degli altri. Rifiuto dell'amore. Portare amore fedele come sacrificio. E trasformarlo in odio puro. E infatti allontanati da me. Ti odio. Fedelmente. Quel fedelmente mi dà da pensare. L'artista in questione chiude la strofa dicendo che sta per suicidarsi. Cioè. Camminare sull'asse. Vuol dire questo. Ecco. Pesante. Mamma mia. Oh. Porca miseria. Ok. Che piena notte cercavo un modo per intrattenermi in questo momento in cui non riesco a dormire. Ho detto. Ah. Faccio un podcast notturno. Ci metto. Ci metto un attimo quello che trovo. E ho trovato questo brano. Mi sono imbattuto in questa. In questa canzone. insomma. Non so se dormirò. Ho l'impressione che stanotte io non dormirò. Mi metto il cuore in pace. Sono a ruota già da un po'. Il mio conto corrente. È profondo rosso. Potessi rapinarti. Lo farei. Però non posso. Citando il buon fibra. Non so se fare una morale. Dire. Ragazzi. Voi che amate questo genere. Amate questi brani. Consultate uno psicologo. Uno psicanalista. Perché io sono il primo che ascolta la musica per star bene. E a volte ascoltare il marcio ti aiuta tanto. Ti fa sentire rispecchiato. Ma se ti rispecchi in un testo dove si cammina sull'asse. Un attimo non deve essere un periodo facile. E per questo motivo che io voglio approfittare di episodi come questi. Non per parlare e sensibilizzare su certe tematiche. Perché l'ho già fatto e fondamentalmente non so neanche fino a che punto è utile. Sto cercando di arrivare a un punto 2.0 oltre la sensibilizzazione. Ma all'approfondimento. Quindi cioè tu che ascolti questo podcast fondamentalmente non sei solo e e io che faccio questo podcast. Neanche. E quindi forse è questo il discorso. Forse è questa l'esigenza da cui nasce la solitudine che poi conduce a un desiderio inconscio di morire perché la morte è semplicemente la fuga da questa condizione. Ma spesso molte persone che vogliono morire in verità vogliono solo uscire da una condizione di vita che in cui non sono felici. Ecco ci tengo a mandare questo messaggio ragazzi. È fondamentale. Non lasciatevi ingannare dalle turbe della mente e del cervello. Trovate una soluzione. Lasciatevi aiutare se avete bisogno d'aiuto perché non c'è gesto più coraggioso e più meritevole di rispetto che chiedere aiuto. Però ecco non lasciamoci ingannare noi tutti dai deliri, dalla follia, dalle parole, da tutto ciò che ci può sembrare giusto in quel momento. Ciò che è dettato dal dolore perché si soffre, si sta male. Io personalmente conosco la depressione, la conosco molto bene. La vivo a fasi alterne perché la depressione è subdola. C'è e non c'è poi arriva tutta in blocco e lì la mente può pensare qualunque cosa. Ma questo non vuol dire che siamo i nostri pensieri peggiori e che bisogna prendere tempo e andare avanti. Perché se c'è una cosa che ho imparato è che la vita ti sorprenderà sempre in qualche modo, prima o poi. Del resto, come diceva Sergio Indrigo, le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un albero ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Insomma, morale della favola, per fare tutto ci vuole un fiore.